La domanda è quasi tecnica, siete più un gruppo demenziale o un gruppo rap? Siamo noi, siamo noi, siamo gli erezioni, siamo gli erezioni, e tutti sono di noi, ti vedo dagli occhiali. Grazie. Da 1 a 10 quanto ami la giuria? 136, gli darei anche il culo. Senti, una domanda un po' se, quando è che si raggiunge più facilmente una erezione? Cosa occorre? Qual è lo stimolo necessario nel corpo e nella mente? È giusto. Alleluia, Giosuè, batterista e bravo. Tanti auguri alle erezioni libera per la finalissima e in bocca al lupo, a presto. Le erezioni libera sul nostro gruppo rock preferito, questo è naturale. Questo è uno dei fans pagati ovviamente, ciao a tutti. Troppo lungo questo pezzo, dobbiamo accorciarlo. Il prossimo pezzo si chiama Assorbenti Selvagi. Parla dell'inquinamento degli assorbenti sporchi lasciati per le strade. E poi uno scivola, cade, si ammazza. E quindi noi siamo contro l'inquinamento degli assorbenti per le strade, siamo per l'ecologia. Vorrei fare un pezzo mio. Guarda. Un pezzo mio. È pazzo. Vuole fare un pezzo suo. Ha bevuto. Perché venendo in questa piazza, è venuto di fare un pezzo mio, proprio mio, 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 mio. Sentire proprio bene. Insomma non è suo. Niente è suo. Vai, vai. Vai, vai. Coro è tardi, sono di fretta, se ritardo non mi aspetta. La mia vita è carta straccia, ce l'ho scritto sulla faccia. Ma che cazzo, sono caduto, ma che razza d'incidente. Ho inciampato, con che cosa? Ho beccato una assorbente. Dimmi la percentuale del tuo ciclo mestruale. Ho beccato una assorbente. Ho beccato una assorbente. Ho beccato una assorbente. live degli Arezione Libera il gruppo che si è piazzato al primo posto durante la prima serata di Mister Rock Sicilia